Ci sono degli strumenti derivati che ti possono consentire di aumentare la leva, quindi la tua esposizione per esempio quando fai un acquisto legato a Bitcoin e allo stesso momento però evitare una perdita importante e limitare la perdita solo al pezzettino di capitale che tu hai investito ma senza essere liquidato dal broker se il mercato ti va contro. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video, un video dove torniamo a parlare di strategie facciamo corso ragazzi quindi oggi parleremo del strumento delle opzioni per la prima volta qui sul canale e me lo avete chiesto tanti anni fa e anche ultimamente è un argomento iper professionale quindi adatto ovviamente a trader che sanno quello che stanno facendo ma anche a investitori. Sono uno degli strumenti preferiti da tutti gli investitori istituzionali, sono uno degli strumenti preferiti da tutti i trader pro perché hanno diversi tipi di vantaggi che però ragazzi senza conoscerli non possiamo andare a sfruttarli. Allora corso basic sulle opzioni legate al mondo delle cripto ma non solo perché le opzioni non sono solo presenti ovviamente sul mondo delle cripto ma sono presenti su tutto il resto del mondo finanziario old economy quindi soprattutto importantissime le opzioni sugli indici di borsa come Nasdaq, SP500 e vi possono dare veramente ragazzi un vantaggio enorme se le sapete usare e ci sono anche delle strategie top che vi consentono di creare delle addirittura rendite utilizzando proprio le opzioni. Ma bando alle ciance direi questa cosa andremo prima a guardare quello che sono le mie slide facendo quindi un corso approfondito e poi andiamo a fare delle operazioni andiamo a fare degli esempi pratici per alcune strategie. Ovviamente non posso parlarvi di tutte le strategie sulle opzioni perché ce ne sono tantissime ma è un argomento che può interessare anche solo per quello che vi ho detto all'inizio per limitare i danni, bloccare un eventuale stop loss, non essere mai liquidati dal broker e quindi restare in posizione quindi non c'è lo stop hunting se andiamo a utilizzare le opzioni. Per esempio quello che è successo che abbiamo visto succedere su bitcoin con la questione della fake news, questo short squeeze qui non sarebbe avvenuto o comunque non sarebbe stati liquidati utilizzando la tecnica delle opzioni. Non sono solo pro ci sono ovviamente anche i contro, dobbiamo andare a vedere un po' di cose ma prima di andare avanti questo video è sponsorizzato da CoinCall ragazzi lo sponsor di oggi che consente di avere questo contenuto gratuito perché è un contenuto importante. e lungo sul quale sto lavorando già da una decina di giorni quindi è ovviamente grazie a CoinCall che riusciamo a fare questo tipo di video ragazzi è un exchange crypto estremamente giovane quindi con tutte le peculiarità degli exchange giovani fate i vostri compiti a casa andate a spulciare tutto quello che vi serve di or sempre però ha delle peculiarità ne abbiamo già parlato è un exchange che sta cercando di lanciarsi e soprattutto lavora con le opzioni oltre che con i future ragazzi quindi oggi andremo utilizzare il loro exchange per capire un po' come funzionano le opzioni e fare gli esempi esistono anche altri exchange nel settore delle criptovalute che vi danno la possibilità di lavorare con le opzioni anche il più famoso di tutti che poi è Deribit che ha anche il record dei volumi anche di quello ovviamente vi lascio il link in descrizione. detto questo io direi ragazzi andate avanti a l'ultima cosa ovviamente CoinCall vi dà una super promo in questo caso quindi sconto qui al 20% dal link che trovate per sempre e oltre a questo ragazzi una promo con una con i volumi ragazzi quindi in pratica ai primi 50 utenti che tradano 10k totali di volume quindi fanno un thread di 10k di volume danno il controvalore di un'opzione su ethereum che vale più o meno 20-30 dollari ve lo dico già da subito quindi comunque sono in più sono anche prelevabili quindi potete come sempre fare ingresso e uscita e poi eventualmente prelevarli. vi lascio il link in descrizione di CoinCall è finita la questione sponsor andiamo a parlare invece della delle opzioni ragazzi intanto vi faccio vedere come è strutturato diciamo un grafico delle opzioni questo è in miniatura e questo vi faccio vedere quello che ci attenderà quando andremo un po ad approfondire. questi sono invece tutta la dashboard che riguarda le opzioni call e le opzioni put ma andiamo in ordine ragazzi allora corso basic per quanto riguarda le opzioni oggi andremo a fare un'introduzione che cos'è un'opzione i tipi di opzioni e fattori che influenzano le opzioni strategie di base e rischi associati alle opzioni poi gli esempi pratici. allora intanto che cosa sono le opzioni rappresentano dei contratti che conferiscono al possessore il diritto ma non l'ombligo di acquistare o vendere un determinato asset ad un prezzo prestabilito entro una certa data. in pratica io contrattualizzo e dico voglio acquistare bitcoin a 25 mila dollari entro il 15 dicembre 2023 quindi io compro un'opzione che è un contratto appunto tra le parti dove ci sono scritte queste cose quindi io ho il diritto ma non l'obbligo ovviamente quindi posso anche non acquistarlo per esempio nel momento in cui vale di meno non lo acquisto nel momento in cui vale di più magari esercito la mia opzione vedremo che queste cose comunque sono tutte le diciture di natura legale ma poi da un punto di vista operativo funziona tutto in automatico quindi giusto per spiegarvelo in maniera più semplice non è che sia dovete stare appunto a fare questi conteggi queste diciamo locuzioni però sostanzialmente il concetto è quello quindi un contratto dove io definisco la data e definisco il prezzo al quale comprerò o venderò perché ci sono anche le opzioni put quindi nel caso delle opzioni che servono per comprare le chiameremo opzioni call e nel caso delle opzioni che servono per vendere un determinato prezzo le chiameremo opzioni put e quindi un determinato asset appunto una data entro una data stabilita. allora nascono sono uno strumento molto antico devo essere sincero uno dei principali strumenti veramente venivano usati da tantissimo tantissimi anni or sono sono quindi uno strumento non nuovo ragazzi le opzioni sono uno strumento istituzionale per investitori istituzionali da sempre comunque nel 73 sono stati poi inserite nel cboe e da lì sono diventate molto più importanti hanno avuto tantissimi volumi eccetera quando poi addirittura nel 73 i premi Nobel se non erro se adesso Black e Schultz hanno vinto il premio Nobel ho un lapsus voglio andarlo a controllare ok ragazzi allora confermo che hanno vinto il il Nobel però mi ricordavo infatti che Black era molto molto prima perché nel 97 hanno vinto il Nobel comunque vabbè giusto per dire per spiegarvi perché loro fecero poi un modello Black e Schultz che per la valutazione delle opzioni è stato un modello rivoluzionario eccetera econometrico e insomma importantissimo le opzioni sono strumenti finanziari utilizzate sia da investitori istituzionali che da retail sono impiegate da una vasta gamma di strategie in una vasta gamma di strategie dalla copertura dal trading speculativo e sono negotiate nelle borse di tutto il mondo le opzioni si possono utilizzare per esempio anche per coprirsi quando avete il bitcoin o delle cripto o un asset a prescindere vi ripeto si possono utilizzare anche nel mercato classico e sono strautilizzate molto di più che nel cripto nel mercato classico comunque se avete bitcoin in holding e volete coprirvi la posizione long se bitcoin per esempio inizia un trend di bassista potete acquistare delle opzioni put questo significa che mentre il mercato il sottostante scenderà le opzioni put guadagneranno valore quindi da una parte magari il vostro holding perderà e quindi in questo caso scenderà di valore dall'altra parte le opzioni put vi copriranno appunto questa questa perdita e quindi le opzioni sono anche utilizzate per questo vedremo che non è così semplice ci sono infatti dei costi associati che a volte sono anche importanti e quindi fare questo tipo di strategie e prima di farle è importante capire che cosa state facendo e soprattutto economicamente quello che andate a toccare già vi dico che a livello delle opzioni ragazzi c'è un po' di matematica basilare proprio la bc però qualcosina la dovete conoscere perché i termini matematici sono fondamentali per capire se è un'opzione fa a caso vostro o meno le opzioni su bitcoin e sulle cripto consentono di creare quindi strategie complesse sia a livello speculativo sia con strategia di copertura dei rischi come vi spiegavo poco fa è sempre usare un appunto per coprirsi da un rischio di ribasso se il prezzo di bitcoin scende ed avete magari bitcoin in holding un contratto di opzione è un contratto che conferì derivato che conferisce all'acquirente il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere un'attività sottostante a un prezzo prestabilito chiamato lo strike price entro una data specifica questa è un po' un'area elaborazione della definizione che vi ho dato prima iniziamo con la prima opzione l'opzione call quella che ci dà diritto di acquistare l'attività sottostante non di venderla conferisce al detentore il diritto di acquistare l'attività sottostante ad un determinato prezzo di esercizio che si definisce strike e se ci si aspetta che il prezzo dell'attività sottostante in pratica aumenti un investitore potrebbe acquistare un'opzione call quindi un'opzione call ragazzi consiste è diciamo un po' un altro modo di acquistare bitcoin in termini derivati e attendere magari la risalita del prezzo quindi speculare su bitcoin si può fare sia comprando un future sia comprando lo spot di bitcoin sia comprando per esempio un'opzione call l'opzione call aumenterà di valore insieme al sottostante attenzione che però non il rapporto uno a uno perché è un derivato quindi è diverso il modo in cui l'opzione call aumenterà e lo vedremo fra poco ve lo spiego fra poco allora opzione put è la stessa identica cosa ma da diritto di vendere un'attività sottostante a un determinato prezzo di esercizio in pratica viene utilizzato se voi pensate che bitcoin va a scendere crolla in questo caso o l'attività sottostante può andare a scendere quindi in questo caso immaginiamo invece il bitcoin nasdaq 100 il future di nasdaq 100 scende quindi voi pensate che scende comprate un'opzione put sul nasdaq 100 per speculare sul ribasso dell'indice americano invece di utilizzare il future comprate l'opzione put questo è il diciamo sono le due opzioni e come si muovono attività sottostante che cosa può essere come attività sottostante di un obbligo di un'opzione può essere l'asset come un'azione un indice borsistico una materia prima le valute le obbligazioni stesse anche le criptovalute bitcoin o altri strumenti finanziari in pratica tutto ciò che esiste nel che si può mettere all'interno del derivato delle opzioni lo potete trovare quindi potete trovare delle opzioni su quel determinato sottostante attenzione perché meglio utilizzare le opzioni sempre laddove abbiamo sottostanti che abbiano una certa liquidità quindi ok bitcoin ethereum nel caso delle cripto ok per quanto riguarda le azioni top level e non le azioni che hanno bassa liquidità e sono le penni stock magari le sottili ok per gli indici di borsa ok per i titoli di stato che sono obbligazioni magari imponenti però in alcuni ambiti le opzioni poi diventano estremamente speculative e se il sottostante non è liquido estremamente rischioso e quindi questo ricordatevelo sempre prezzo di esercizio questa iniziamo a parlare delle componenti che riguardano le opzioni quindi ci sono delle componenti che adesso vi mostrerò comunque quando andiamo qui sul grafico sono molto più semplici di quello che vi pensate quindi attenzione a pensare che sia complesso non è così ragazzi è complessa la definizione ma non l'operato pro in termini pratici il prezzo di esercizio è il prezzo a cui il detentore dell'opzione può acquistare per le call appunto vendere per le put l'attività sottostante si definisce strike price ed è il prezzo di esercizio ve lo faccio vedere già in un esempio pratico allora qui nella prima colonna del della piattaforma di coin call abbiamo strike price quindi uno strike price in questo caso per le opzioni call ragazzi se io voglio le put prenderò le put in questo caso sto utilizzando le call e dico ok buy call vedete che ci possono anche vendere le opzioni senza averle questa è un'altra strategia poi ne parleremo più in là ma non in questo video allora questa questo tipo di acquisto vedete è un acquisto di una call e qui è lo strike price quindi come indicato lo strike price ci dice il prezzo a cui il detentore delle opzioni può acquistare una call in pratica io compro un contratto se prendiamo per esempio questa opzione l'opzione con strike price 27 mila dollari su bitcoin in scadenza questo è 19 ottobre poniamo diciamo la scadenza a fine mese di ottobre andiamo la scadenza a fine mese di ottobre diciamo voglio comprare un'opzione call a 27 di come strike price a 27 mila dollari ciò significa che in pratica io sto comprando il diritto di ricevere il 27 ottobre quindi a fine mese la data di scadenza un bitcoin per ogni opzione che compro a 27 mila dollari è acquistato a 27 mila dollari va bene e questo è il concetto però poi bisognerà chiedersi ok ma quanto lo paghiamo in questo momento quanto paghiamo questa opzione in questo momento questa opzione costa circa 1.400 dollari cioè sostanzialmente la parte restante dall'attuale prezzo di bitcoin che è 28 mila e 3 ai 27 cioè il differenziale tra il prezzo attuale di bitcoin che vi faccio vedere che è 20 circa 27 mila e eccolo qua 20 28 mila e 2 e 3 sta oscillando e il la differenza tra il prezzo di bitcoin e lo strike price va bene ragazzi ci dà un'informazione importante perché io sto pagando questa opzione in pratica 1.400 dollari quando in realtà vale il differenziale tra il prezzo di bitcoin attuale e lo strike price quindi strike price 27 il prezzo di bitcoin 28 e 2 quest'opzione vale 28 mila e 250 dollari ma io la pago 1.000 e scusate non 28 mila vale 1.250 dollari quindi il differenziale tra questi due livelli ma io la pago un po' di più ragazzi questo po' di più quindi noi la paghiamo non 1.200 e 2.250 ma 1.400 questo perché esiste un valore che è intrinseco all'interno delle opzioni cioè il fatto che le opzioni dandovi questa possibilità vi fanno pagare il tempo il tempo si chiama proprio così che voi detenete l'opzione in pancia quindi questo tempo noi lo stiamo pagando 150 dollari da qui alla scadenza quindi sono oggi sto registrando intorno al 18 quindi sono 10 giorni circa 9 giorni questi 9 giorni ci costano 150 dollari questo è oggettivo perché lo andiamo a fare questa cosa perché come vedremo dopo abbiamo un acquisto che ha un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di bitcoin quindi io qui posso comprarmi un bitcoin definendo che lo comprerò a 27.000 dollari pagandolo solo 1.400 dollari invece di 27.000 dollari ragazzi questo è una grande opportunità è un effetto leva intrinseco che all'interno delle opzioni ci permette di fare tanti giochini che adesso andremo a vedere va bene quindi allora intanto vi ho fatto questo esempio di che cos'è il prezzo di esercizio data di scadenza la data in cui il contratto dell'opzione scade dopo questa data l'opzione diventa inutile non può essere più esercitata allora cosa succede alla data di scadenza il broker vi rimborsa il valore delle opzioni l'opzione può salire di valore scendere di valore o valere uguale a quanto l'avete comprata in pratica è come acquistare un future o un derivato qualsiasi sale di valore se ovviamente un'opzione call sale di valore se il sottostante sale quindi se bitcoin sale e voi avete il contratto che la comprate a 27.000 dollari a fine mese di ottobre e bitcoin vale 30.000 dollari quell'opzione automaticamente varrà 3.000 dollari ragazzi perché anche questo vi faccio vi faccio comprendere immaginiamo che a scadenza bitcoin salga e arrivi a 30.000 dollari una cosa del genere va bene noi come prezziamo la nostra opzione questa qui che stiamo vedendo questa opzione scade il 27 di ottobre il broker andrà a prendere il prezzo del sottostante toglierà lo strike price che è 27.000 e fa prezzo sottostante meno lo strike price uguale valore delle opzioni e vi rimborsa quel valore quindi prezzo sottostante immaginario 30.000 dollari prezzo del strike price 27.000 uguale 3.000 dollari il valore dell'opzione ciò significa che come vedete in pratica se noi compriamo un'opzione qui abbiamo raddoppiato in pratica più che raddoppiato il nostro investimento perché se bitcoin arriva a 30.000 questa opzione varrà il doppio questo è l'effetto leva che si va a creare utilizzando appunto le opzioni ok detto questo andiamo andiamo avanti ragazzi allora allora vediamo dove siamo arrivati allora scherzo le opzioni ok ce l'avamo dopodiché componenti principali sono come vi dicevo il premio pagato dal compratore che è il prezzo dell'opzione stessa in questo caso nel nostro esempio il prezzo è 1.400 dollari circa poi il prezzo del sottostante quindi quanto vale bitcoin è molto importante il prezzo di esercizio lo strike price il tempo rimanente alla scadenza nel nostro esempio erano 9 giorni la volatilità dell'asset sottostante allora la volatilità apriamo adesso un altro argomento ragazzi le opzioni sono prezzate cioè il valore dell'opzione che è questo valore che trovate qui quanto vale la vostra opzione in questo caso è il collegato in pratica alla volatilità dei mercati questo significa che più una mercato è volatile più l'opzione aumenterà di valore perché l'opzione si basa anche sul concetto del rischio quindi di quello che esattamente è presente come rischio di oscillazione del sottostante essendo che l'opzione è un derivato che si basa sulla volatilità e che vi fa effetto leva in automatico il suo prezzo è collegato alla volatilità dello strumento più la volatilità implicita del sottostante aumenta più aumenta il rischio del emittente dell'opzione quindi vi farà pagare l'opzione di più ragazzi ciò significa che se comprate un'opzione sia put sia call e poi c'è uno scoppio di volatilità la vostra opzione varrà di più quindi si può speculare anche sulla volatilità per esempio quando la volatilità è bassa e comprando un'opzione voi potete anche speculare sulla volatilità ebbene perché se la volatilità dovesse esplodere al rialzo ad esempio come è stato qualche giorno fa con lo short squeeze di bitcoin a quel punto le opzioni aumentano ragazzi di valore a prescindere dall'andamento del sottostante quindi le opzioni possono aumentare o diminuire in base al sottostante ma anche in base alla volatilità con questa semplicissima norma più aumenta la volatilità più aumenta il premio dell'opzione e quindi il prezzo dell'opzione stessa questo è bene ricordarlo perché su queste diciamo questioni ci sono tante strategie che si possono verificare allora controlliamo l'opzione call era l'esempio che vi stavo facendo vedere prima all'interno tra le altre cose del bannerino sulle opzioni esiste anche la cosiddetta indicazione della volatilità implicita che è questo indicatore qui ragazzi la volatilità implicita è al 36% già vi dico che è bassissima per quanto riguarda le cripto perché solitamente è molto più alta quindi in questo momento abbassa volatilità ciò significa che teoricamente sarebbe conveniente acquistare un'obbligazione una opzione scusate ragazzi acquistare un'opzione in questo momento se vogliamo speculare sulla volatilità attendendoci magari un'esplosione di volatilità di bitcoin bisogna sempre ricordarsi però che questa è un'opzione a scadenza breve quindi sono solo nove giorni quindi per fare questo tipo di strategia sarebbe magari meglio acquistare un'opzione con scadenza più lunga magari qualche mese fino a dicembre ragazzi perché ci sono come vedete tante scadenze vedete c'è dicembre, marzo, giugno, settembre ricordatevi che i trimestri per quanto riguarda le opzioni sono le opzioni classiche trimestrali quindi il classico marzo, giugno, settembre, dicembre poi esistono anche le opzioni daily e settimanali che vi consentono di fare strategie daily o strategie settimanali questo però in questo momento noi stiamo guardando invece una opzione che scade a fine mese è quella appunto del 27 allora in questo caso abbiamo una volatilità implicita abbastanza bassa e quindi potrebbe anche salire abbiamo visto in pratica questo tipo di strategia vi faccio vedere anche un'altra cosa se io qui inserisco che vado ad acquistare come amount un bitcoin in pratica per quanto riguarda queste opzioni un bitcoin in questo caso mi dice che mi costerà vedete 1463 dollari l'acquisto di questa opzione mi costerà questa cifra ovviamente perché ho messo il limit order ma se metto a market mi costerà di più perché l'ask come vedete è più alto e qui diciamo arriva già il primo nodo cioè lo spread da controllare ask e mid per quanto riguarda le opzioni scordatevi di fare scalping sulle opzioni perché hanno uno spread molto elevato quindi significa che le opzioni quando le comprate dovete essere coscienti delle strategie che state effettuando non potete acquistare un'opzione e venderla pochi minuti dopo a meno che non è successo appunto un'esplosione di volatilità allora a quel punto sì però nel momento in cui fate questo tipo di acquisti dovete sempre ricordarvi che lo spread bid and ask è veramente molto ampio ciò significa che dovete utilizzare le strategie vedete qui per esempio lo spread bid and ask è 180 dollari circa quindi abbastanza ampio però tornando a noi se io metto appunto un limit e metto come limit il prezzo dell'ask mi eseguirà con un 1.562 dollari ok ragazzi vi ho messo 1.500 dollari così andiamo a prezzo FIS questo è il costo totale dell'operazione per acquistare un bitcoin più giù c'è l'expected profit and loss che ci dà un grafico che ci dice ragazzi che cosa succede con le opzioni questo è un grafico che dovete praticamente stamparvi in testa ed è molto importante analizziamolo perché è molto semplice ci dice che da questo puntino che è il nostro break even che vi dice già bitcoin a 28.500 dollari per voi costituisce il break even quindi mi dice se bitcoin il 27 di ottobre la data di scadenza dell'opzione vale 28.500 dollari tu vieni ripagato esattamente del tuo investimento break even cioè non hai guadagnato nulla ma non hai mai perso attenzione però perché guardate cosa succede con le opzioni man mano che bitcoin sale se bitcoin dovesse salire e avere un prezzo più alto per esempio il prezzo di 33.500 dollari il profit di questa operazione sarebbe 5.000 dollari se bitcoin sale ancora a scadenza del 28 di ottobre quindi perché stiamo comprando una colla appunto 10.000 dollari di profitto se bitcoin arriva a 38.500 insomma qui è molto semplice comprendere più sale bitcoin più andiamo a guadagnare perché l'opzione si aggancia e sarebbe come avere appunto un bitcoin in portafoglio anche se noi abbiamo speso 1.400 dollari 1.500 dollari abbiamo comprato un bitcoin ragazzi quindi se bitcoin sale arriva a 60.000 dollari a ottobre noi abbiamo guadagnato tutta la fetta di profit dov'è il giochino allora cosa succede? se bitcoin invece scende guardate e scende sotto il break even in pratica noi abbiamo una curva di perdita fino a un tot dopodiché perdiamo tutto l'investimento e si azzera in pratica non c'è più perdita in pratica noi con le opzioni abbiamo già una strategia ben delineata andiamo a perdere quello che investiamo intanto e come vi dicevo non si può essere liquidati perché noi possiamo comprare questa opzione e aspettare fino alla scadenza nel momento in cui bitcoin dovesse crollare per un paio di giorni e poi avere un pump nei giorni successivi noi non saremo liquidati perché l'opzione la deterremo comunque il portafoglio con valore zero però sarà sempre detenuta il portafoglio fino alla data di scadenza questo significa che se bitcoin dovesse ritornare a salire noi saremo di nuovo in auge con quella opzione quindi anche se abbiamo perso quel capitale che rappresenta per noi il nostro stop loss considerate che nelle opzioni spesso si utilizza all'intero a montare delle opzioni come stop loss a quel punto però è un stop loss che non è liquidato cioè significa che noi non dobbiamo ricomprarla oppure avviene lo stop hunting ci fanno lo squeeze verso il basso e poi ripartono long non c'è problema con le opzioni quindi questo evento non avviene con le opzioni perché in questo caso siete diciamo protetti dal meccanismo sottostante le opzioni stesse in pratica che cosa vi dice questo grafico? che se l'opzione scende al di sotto del tuo strike price quindi al di sotto di 27.000 dollari non vale più nulla in pratica e quindi vale zero se scende al di sotto di 27.000 dollari a fine mese di ottobre l'opzione varrà zero sarà out of the money e questo significa che in pratica non vi rimborsano capitale avete perso quindi lo stop loss sarà l'intero premio pagato ma tra il prezzo attuale che è 28.300 e 27.000 c'è questa finestrella in questa finestrella di 1300 dollari ci sono delle perdite più piccole quindi non tutto il premio pagato ma si perde un pochino di meno e se infatti andate a guardare bene in questo grafico non so se si vede forse dovrei ingrandirlo ma poi esce un po' più grande c'è una linea che non è proprio piatta ma diciamo scende fino a un determinato livello di pricing e poi si va in loss totale dell'intero capitale bene allora torniamo a noi il prezzo del sottostante e abbiamo visto come il prezzo del sottostante influenza il prezzo dell'obbligazione facendo l'esempio sulla colla abbiamo visto che l'attività sottostante se aumenta quindi se bitcoin aumenta il prezzo dell'opzione colla aumenterà mentre quello di una put diminuisce ovviamente ragazzi tutti questi ragionamenti valgono viceversa per le opzioni put che invece scommettono a rimbasso quindi se io compro una put in pratica a 29.000 dollari a quel punto sto dicendo mi aspetto che bitcoin vada down e quindi 29.000 dollari in pratica ve la faccio vedere eccola qui è in pratica più o meno simile ecco qui questa è un'opzione a 29.000 dollari guardate il grafico come si è andato a modificare e mi dice se vai a comprare un'opzione put a 29.000 dollari che vale 1000 dollari quindi io la pagherò 1000 dollari e bitcoin continua a scendere mi dice intanto ha il break even price a 27.973 28.000 dollari circa da lì in poi più scende più tu guadagni vedete come scende bitcoin arriva a 0 ovviamente guadagno 27.000 più sale più a un certo punto perdi tutto quello che hai investito e non perdi più quindi anche qui blocchiamo la perdita che è uno degli aspetti forse fondamentali dell'opzione perché non ci fa appunto andare in stop hunting eccetera quindi paghiamo un po' lo scotto dello spread paghiamo il tempo come vi dico fra poco però abbiamo un buon vantaggio che è questo che vi sto dicendo volatilità la volatilità rappresenta la variabilità attesa del prezzo del sottostante maggiore la volatilità maggiore il rischio e di conseguenza maggiore sarà il premio pagato all'opzione se la volatilità del sottostante aumenta il prezzo dell'opzione sale ragazzi questo ve l'ho spiegato quindi basta guardare la volatilità implicita andare a comprendere non è importante se è una putto o una colla è importante solo la volatilità implicita se sale il prezzo salirà quindi se io vado a comprare una colla qui a questa è una putto scusate a mille dollari e questa volatilità implicita sale sale a prescindere anche quello della putto ovviamente poi cosa succede ragazzi che bisogna essere realisti ok questo è vero però è teorico perché perché se sale la volatilità per aumentare la volatilità del sottostante significa che il sottostante sostanzialmente si muove in una direzione quindi ovvio che se si muoverà a rialzo facendo una super pampone gigantesco la putto ok aumenta per quanto riguarda l'effetto volatilità però perde perché il sottostante è andato contro quindi ovvio che questo concetto è valido solo per strutturare strategie complesse che prevedono l'acquisto simultaneo di putt e di e di col per creare appunto un guadagno dall'impatto della volatilità sono strategie estremamente complesse vi ripeto le opzioni sono per gli istituzionali ma non vi interessa secondo me in questo caso quindi valutate sempre la teoria però poi nella pratica è vero entrambe hanno l'effetto volatilità però per aumentare la volatilità il sottostante si muoverà in una direzione quindi la relativa opzione guadagna e quella opposta perderà e questo è nella morale dei fatti insomma la parte operativa va bene tempo alla scadenza questa è una cosa importantissima si chiama teta delle opzioni ed è il tempo alla scadenza le opzioni perdono valore man mano che passa il tempo si chiama decay temporale fantastico ragazzi allora le opzioni prezzano prezzano il tempo ciò significa che come vi dicevo prima pagate un po' di più un'opzione call e un po' di più un'opzione put in base al tempo residuo a scadenza dell'opzione e ogni giorno teoricamente l'opzione perderà un pezzettino di quel plus che avete pagato man mano che il tempo si va a ridurre e questo fattore si chiama teta lo andiamo a vedere tra poco quindi dovete tenerne conto perché l'opzione perde valore man mano che il tempo passa perciò aprire una posizione holding con le opzioni è follia aprire una posizione di copertura con le opzioni per lunghissimo periodo va bene però dovete ricordarvi e calcolare il tempo che perdete perché man mano che il tempo passerà quella sarà la vostra assicurazione e dovete pagare il premio assicurativo perché vi state assicurando vi state coprendo dall'evento ribasso ma quella copertura costa un tot a livello di denaro quindi di dollari e quello è dato appunto dal teta che sarà una cosa che adesso andiamo a vedere con le ultime slide poi anche il prezzo di esercizio ovviamente lo strike influenza le opzioni perché a seconda dello strike le opzioni poi saranno in the money out of the money e at the money ciò significa che per esempio nella call nell'esempio call che vi ho fatto prima andiamolo a vedere precedentemente non mi piace fare l'esempio putto su bitcoin voglio fare l'esempio della call la call 27.000 dollari eccola qui con strike 27.000 allora qui ragazzi come influenza allora se io qui ho lo strike 27.000 che è quello che vedete qui nel momento in cui ho questo strike e il prezzo di bitcoin è sotto questo livello alla scadenza dell'opzione io dirò che l'opzione è scaduta out of the money quindi vale zero se invece il prezzo dell'opzione è a 27.000 dollari è out of the money quindi vale in pratica uno cioè sostanzialmente vale il valore dell'opzione stessa quindi in questo caso è praticamente a un livello nullo però non è zero diciamo si definisce così non è una perdita poi se invece è superiore il prezzo del totostante arriva a 28.000 dollari e scade l'opzione l'opzione sarà in the money quindi significa che ha valore economico tutto qui insomma alla fine poi come si fa il calcolo ve l'ho già spiegato quindi come influisce il prezzo di esercizio ve l'ho già spiegato allora le greche adesso parliamo dell'ultima cosa importante poi facciamo l'esempio pratico di nuovo le greche sono l'abc delle opzioni tutto quello che ci siamo detti qui viene riassunto da questi indicatori che si chiamano le greche e sono splendide le greche perché sono lettere greche ragazzi e sono fantastiche allora sono adatte a tutti quelli che vogliono fare l'attività matematica sulle opzioni spettacolare questo tipo di nozione e partiamo subito dalla prima adesso ve le faccio vedere anche sulla piattaforma di coin call vi ricordo ragazzi il link in descrizione per il nostro sponsor per chi volesse utilizzarlo e fare i test 20% di sconto via primi 50 che fanno 10k di volume regalano un'opzione eth del valore di circa 20-30 dollari quindi il link in descrizione allora le greche la prima la più importante il delta ragazzi misura la sensibilità del prezzo dell'opzione rispetto a una variazione del prezzo dell'attività sottostante vi dicevo prima che le opzioni non variano uno ad uno rispetto all'attività sottostante ciò non significa che se il bitcoin aumenta 100 dollari la mia opzione aumenterà il premio di 100 dollari di meno lo aumenterà perché c'è un effetto legato al appunto depreciamento delle opzioni e alla volatilità è un insieme di formule che ovviamente non vi tedio però questo questa sensibilità al prezzo si definisce delta ora qui vedete le greche che sono rappresentate sulla piattaforma coin call in questo caso l'opzione nostra che abbiamo preso a scadenza 27 ottobre 2023 a strike price 27.000 dollari ha un delta di 0.8 molto alto ciò significa che per ogni dollaro che bitcoin aumenta questa opzione aumenta di 0.80 centesimi quindi quasi 1 a 1 non è 1 a 1 questo significa che è ben prezzata che ha un ottimo prezzo e ha un teta quindi una decadenza temporale bassa questo già ci dà un riferimento quindi ci dice che questa è un'opzione che se io volessi speculare da qui a fine mese potrei prendere in considerazione perché il bitcoin aumenta di 1 dollaro e questa opzione mi aumenta di 1 dollaro di 80 centesimi quindi è quasi uguale quasi uguale quindi per me è un ottimo compromesso ricordatevi che non esiste un delta a 1 ragazzi se andiamo a prendere per esempio altre opzioni possiamo vedere che avranno delta differenti per esempio le opzioni che hanno prezzi ancora più bassi e quindi un effetto leverage che hanno scusate strike price più bassi e premi più alti e quindi un effetto leverage minore hanno una delta maggiore se io invece vado a prendere opzioni vicine a quelle ai prezzi attuali come la 28 mila dollari che su bitcoin strike 28 mila è vicino a quella attuale il delta decade ragazzi vedete perché perché essendo un'opzione è molto più vicina io ho un maggiore effetto leva cioè pago poco di premio ragazzi vi faccio vedere il costo di questa opzione la 28 mila infatti costa 700 dollari ragazzi la metà in pratica questo significa che io con 700 dollari mi sto comprando un bitcoin cioè come ripeto un bitcoin intero che poi se voglio speculare long in questo caso fino a 27 di ottobre comprerò questo bitcoin quindi l'effetto leva è enorme è importante perché in questo caso è quasi il 40% però ho un delta che è 058 059 ciò significa che il decay temporale di questa opzione è più importante di quello che abbiamo visto prima qui bisogna trovare un compromesso dovete voi trovare un compromesso quale vi piace in base del vostro grado di rischio volete più leva pagate più diciamo perdita temporale volete meno leva usate più capitale vostro e quindi rischiate di più perché vi ricordo che se io compro adesso quest'opzione a 28.700 dollari il mio rischio è 700 dollari non posso perdere di più di quello massimo quello perdo e non vengo liquidato quindi comunque non ho l'effetto stop hunting devo aspettare il 27 ottobre se bitcoin vale di più di 28.700 dollari io avrò guadagnato se vale e di meno avrò perso questo è sostanzialmente la questione però il guadagno è proporzionale al sottostante quindi ho un effetto leve enorme perciò ragazzi il delta è una delle greche più importanti vi dice la sensibilità delle oscillazioni di bitcoin poi c'è il gamma misura la variazione del delta rispetto alla variazione del prezzo dell'attività sottostante questo è il cane che ti morde la coda anche il delta varia e come varia varia in base alla variazione del prezzo del sottostante e quindi questa greca ragazzi utilizzatela solo se fate modelli matematici creati sull'opzioni altrimenti la potete tralasciare per gli acquisti spot perché ha un impatto solo se create dei sistemi matematici quindi è il cambio appunto del delta per ogni dollaro che cambia il sottostante quindi è una greca importante però soprattutto se siete insomma trader o istituzionali che volete utilizzarle in maniera matematica per farvi una serie di calcoli e di strategie estremamente complesse il theta la seconda greca che secondo me è la più importante di tutte ci indica la decadenza temporale delle opzioni espressa in dollari in pratica ci dice quanti dollari perde quell'opzione per ogni giorno che passa dal suo acquisto e ad esempio se è un theta di meno 0.10 mi indica che il prezzo dell'opzione diminuirà di 10 centesimi al giorno questo è fantastico andiamo a prendere la nostra opzione riprendiamo quella a 27.000 la call 27.000 a strike di bitcoin 27.000 dollari andiamo a vedere il theta e il theta è 24 dollari guardate ragazzi 24.000 24 e 900 scusami 24.000 24.95 dollari perché ho sempre bitcoin in testa vabbè dopo 40 minuti di video ci sta allora questo significa che ogni giorno che passa questa opzione quindi il premio che voi pagate questo premio che state pagando perde 25 dollari ogni giorno va bene alla fine perderà tutto il decay temporale che è l'over diciamo è l'acquisto maggiorato della vostra opzione e basta poi ovviamente non perde ciò significa che questi 25 dollari persi per ogni giorno fino alla scadenza del 27 ottobre prossimo 2023 saranno il totale del costo vero della vostra opzione perché ragazzi perché l'opzione è una scommessa come acquistare bitcoin stesso quindi cosa pagate di più per avere l'effetto leverage per avere il nessuno stop loss nessuno stop hunting eccetera pagate effettivamente proprio questo cioè pagate il theta pagate il decay temporale questo è il vero costo questo entra nelle tasche di chi emette l'opzione e basta il resto dipende dal mercato non è un costo per voi è dovuto al mercato le oscillazioni di bitcoin in questo caso ma il theta lo pagate e quindi dovete considerarlo quanto costa questo tipo di operatività rispetto a comprare bitcoin spot pagandolo in questo caso 27.000 dollari prendete 27.000 dollari comprate bitcoin non avete questo costo se invece voi prendete un'opzione con strike 27.000 dollari avete il theta come costo però pagate 1.500 dollari invece di 27.000 c'è una bella differenza è un rischio limitato però vi costa questo pezzettino il theta vi dice quanto vi costa ogni giorno oscilla perché si basa anche come calcolo sul prezzo del sottostante anche sulla volatilità eccetera quindi anche il theta è molto importante considerarlo andiamo avanti il vega misura la sensibilità del prezzo dell'opzione una variazione della volatilità implicita come vi dicevo prima quando varia la volatilità quanto varia la nostra opzione cioè quanto sale il theta e il vega scusate ve lo dice che è qui allora come in pratica si calcola se un vega se un vega di 0.20 indica che il prezzo dell'opzione aumenterà di 20 centesimi se la volatilità implicita aumenta dell'1% quindi se io qui ho la volatilità implicita mi aumenta a 37.4 questo premio di questa opzione aumenterà di 12 dollari 11 dollari 97 quindi giusto per farvi capire come funziona se io voglio speculare sulla volatilità andrò a comprendere anche questo concetto ovviamente come dicevo la volatilità è solo per strategie di natura complessa andiamo all'ultima greca che è il raw ancora più per strategie complesse rappresenta la sensibilità del prezzo delle opzioni alla variazione del tasso di interesse cioè più varia il tasso di interesse vediamo quanto varia la nostra opzione questo è interessante andarla a valutare su bitcoin perché ci dice se il tasso di interesse il tasso di sconto proprio il tasso di interesse ragazzi aumenta dell'1% questa opzione va in pratica vedete a aumentare di 5 dollari quindi insomma è marginale per quanto riguarda bitcoin ma questa era una le greche e ve lo volevo dire quindi delta e theta le greche ovviamente più importante per un'operatività più basic più naturale andiamo a chiudere questo video con gli esempi pratici utilizzare l'effetto leva delle opzioni nella questione daily e proteggersi dallo stop loss questo è l'esempio che vi volevo fare andiamo subito a farlo però prima di fare questa cosa volevo anche dirvi che ci sono altre strategie pro per quanto riguarda le opzioni e sono tantissime veramente sono spettacolari magari le andiamo a trattare perché coin call ci sponsorizza anche altri video altri tre video dove tratteremo delle strategie proprio solo dedicate quindi questo è il video madre diciamo così per imparare che quali sono le opzioni poi andremo a vedere cosa sono le covered call la vendita delle opzioni come si guadagna con la vendita delle opzioni le covered put i straddle i condor ce ne sono veramente tante ragazzi alcune non le tratteremo a prescindere sul canale di youtube altre invece le faremo nei prossimi video intanto lasciatemi un mi piace iscrivetevi al canale perché sono passati un botto di tempo per questo video facciamo l'esempio pratico per racchiudere quello che vi sto dicendo un esempio molto chiaro voglio speculare sul fatto che bitcoin possa andare a salire allora intanto come si fa da un punto di vista pratico andiamo ad operare facendo la nostra analisi sul sottostante ragazzi poi invece di andare a comprare il sottostante compriamo l'opzione relativa in base a quella che è la scelta della nostra analisi in questo caso voglio attuare una strategia che è una strategia che ha scadenza giornaliera quindi oggi il 18 ottobre scadrà il 18 ottobre già so che voglio andare a prendere delle opzioni che scadono appunto nel giorno quindi questa qua è Spiring 19 ottobre in questo caso questa è l'opzione daily dopodiché andiamo a fare le nostre analisi in questo caso proprio trading trading quindi cercheremo di fare un effetto leva allora ipotizzo in maniera molto semplice proprio banalissimo che qui è una barra di congestione questa è una zona di supporto e mi ipotizzo che bitcoin resti all'interno di questa fascia fino alla fine della giornata fino alla giornata che avviene qui in pratica io dico bitcoin sotto questo livello non va a scendere perché oscillerà e magari se ne ritorna qui intorno a questa zona ciò significa che io ho un livello di pricing che è 28.100 dollari circa invece di andare a comprare bitcoin decido di andarmi a comprare un'opzione su bitcoin per giocarmi l'effetto leva e compro quindi una call che avrà 28.000 come strike price perché dico ok sotto 28.000 non scende perché secondo me è un livello di supporto questa zona qui e poi se guadagno meno me lo dirà ovviamente l'oscillazione del mercato finale qui che cosa trovo trovo un'opzione 28.000 la scadenza al punto 19 call che ha un delta accettabile come vi dicevo prima vedete 0.8 quindi significa che la theta non sarà tantissimo ovviamente vedete il theta è meno 95 in un giorno perché perché è tutto il giorno cioè è tutta l'opzione cioè quella perderà valore e il quello che sto pagando in più per l'effetto leva è 95 dollari del theta non pago di più di quello perché è solo un giorno quindi in pratica sto pagando tutto quanto in un giorno in pratica questo è il costo dell'opzione questa opzione mi costerà in più questo livello più le commissioni e lo spread che c'è tra bid and dusk quindi ricordatevelo per avere però l'effetto leva effetto leva che guardate qui quant'è in questo caso 93% è un effetto leva gigantesco e soprattutto non ho la questione legata alla non ho la questione legata ragazzi allo stop quindi oggettivamente non ho la questione legata allo stop perché anche se mi prendono il mio prezzo e il mio margine sia sottiglia sia zera io non vengo comunque stoppato resto vi faccio un esempio immaginiamo adesso questa opzione vale 300 dollari bitcoin è a 28.238 quindi se io questa la pago 307 dollari significa che sto pagando circa 70 dollari in più vedete rispetto 80 dollari in più rispetto alla attuale quotazione perché devo fare prezzo del sottostante meno strike price quindi lo strike price è 28 prezzo del sottostante 28 è 2.38 questa opzione dovrebbe valere circa 238 dollari se io la compro a questo prezzo in pratica con un limit price e mi compro un bitcoin la pago 300 dollari vedete ragazzi 300 dollari guardate qui questo significa che a 28.3 e 7 io avrò il break even quindi perché è più veloce in questo caso se chiude la giornata sopra io guadagno se chiude sotto perdo molto semplice ma non posso mai perdere più di 300 dollari però io con 300 dollari ho speculato su un intero bitcoin quindi questo è concettualmente il discorso io vado qui inserisco per esempio un limit all'ask premo buy e vado ad acquistare io in questo momento ho acquistato vedete l'opzione a 309 e me la trovo in portafoglio a questo punto posso portarla a scadenza e il broker mi rimborserà il valore relativo se bitcoin arriva a 28.500 io guadagnerò 200 dollari e ho ottenuto un effetto leva enorme ragazzi perché io vedete ho investito solo 300 dollari in questo tipo di opzione però magari ne guadagno 200 e quindi in pratica è come fare più 70-80% questo è il modo in cui funzionano le opzioni posso anche andarle a vendere ma come vi dicevo prima se io adesso vado a vendere l'opzione andrò a venderla al bid perché dovete considerare il asking bid quindi di solito quando si fanno questo tipo di attività lo si fa per cercare appunto di portarle a scadenza poi ovviamente se adesso l'opzione sale e mi va sopra il mio prezzo di acquisto posso anche decidere di venderla è ovvio e portare a casa magari un rendimento però teoricamente state sempre attenti allo spread e al bid and ask vi ho spiegato un po' tutto quello che c'è da sapere nella parte basic delle opzioni quindi in questo caso io avrò l'ischio limitato alla mia opzione ho comprato un bitcoin se il bitcoin spara uno show un super pump gigantesco io guadagno 2000 dollari con questa operazione ragazzi così semplice e non è questa volta speculativa come investire tanti soldi perché io ho un rischio limitato a 300 dollari quello che ho comprato non posso perdere di più e non posso essere liquidato perché anche se vengo liquidato l'opzione arriverà a zero ma poi se il bitcoin recupera io ritorno a salire l'importante è che a scadenza il sottostante sia pari o superiori al prezzo di break even in questo caso 28.300 dollari è il mio prezzo di break even vedremo a quanto arriverà fatemi sapere se avete più o meno tutto chiaro sono sicuro che molti avranno dubbi rivedete questo video tante volte una super faticata ma sono contentissimo di portare contenuti di questa levatura sul canale fatemi sentire la vostra vicinanza con i pollicioni e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao